Il batte da Jonsson al minuto 40, Inter 1, Stiernan 0, forza ragazzi, il gol di Mauro Riccardi. Adesso loro dovranno uscire un po' dal guscio, un po' di più rispetto a prima. Il cross di Johnny per Dodò che di testa la va a mettere dentro, eccola qua, no, nettamente dentro, però si erano un po' fermati tutti i giocatori, avevano continuato a giocare, ma è inequivocabile l'immagine televisiva, no, era dentro di un metro e mezzo abbondante. Allora, al minuto 2 c'è il raddoppio dei ragazzi con la marcatura da parte di Dodò. ...d'allargare, ha alzato la testa, ha visto a rimorchi arrivare D'Ambrosio, ha calciato di sinistro di prima intenzione, c'è stata una leggera deviazione di un giocatore dello Stiernan. Molto bella la conclusione D'Ambrosio, si è il caso della traversa, nessuna chance questa volta per il...